Torniamo in diretta, 12 e 30 minuti, lo abbiamo annunciato ieri, lo abbiamo annunciato stamattina, abbiamo il piacere di avere in studio con noi fisicamente presente Mr. Cerse Cosmi. Mister! Salve, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Chiamiamolo così. Non è un buongiorno, sappiamo perfettamente per quale motivo, andiamo immediatamente a bomba sull'argomento di cui parla praticamente chiunque, anche le testate generaliste che si sono dedicate giustamente nelle ultime settimane a tante altre cose, non possono che titolare in prima pagina quello che è successo ieri. Lo stato d'animo di Mr. Cerse Cosmi che guarda e che assiste l'Italia a mancare per la seconda volta consecutiva l'accesso a una fase finale di un mondiale? Allora, che fossero degli spareggi comunque pericolosi, il sentore c'era. Però ovviamente, come credo quasi tutti, pensava che il problema vero sarebbe stata la prossima partita. E quindi è stato di grande stupore, anche di tristezza, perché passare in otto mesi da un trionfo a un'umiliazione, perché poi di questo si può trattare, anche se la partita poi è stata veramente incredibile, perché credo che se si rigiocasse mille volte in queste condizioni, per quello che ha fatto la Macedonia, potrebbe massimo andare a supplementare ai rigori. Però, vabbè, il calcio ci ha fatto conoscere tante volte anche questo aspetto, insomma, quindi è inutile trovare giustificazioni. Però credo che, se devo proprio fare un'immagine che mi ha molto colpito, tra la delusione di tutti, calciatori, pubblico, allenatore, però la faccia di Vialli, lì sono rimasto male. Male perché in quell'espressione c'era molto, molto di più di una sconfitta comunque sportiva, che oggi viene chiamata tragedia, dramma, e quindi viene associata magari in un momento dove parlare di dramma e di tragedia per il calcio è anche pericoloso, insomma, sicuramente improprio in questo momento. Però la sua espressione non me la dimenticherò mai più. Mister, peraltro ci siamo permessi di dire nel corso di queste prime ore di trasmissione che forse il successo totalmente isperato all'europeo, perché evidentemente c'erano squadre che come costruzione di rosa erano più attrezzate in estate rispetto all'Italia, rischia di aver fatto quell'effetto che mi sono permesso di definire della polvere sotto al tappeto. Il calcio italiano, il movimento calcistico italiano, magari anche la nostra nazionale di riflesso, ha dei problemi. poi succede per una serie di congetture astrali che riesce a fare quello che sei riuscito a fare, polvere sotto al tappeto, poi se il tappeto si sposta la polvere riaffiora. Sì, è stato questo, ma anche questo. Però io credo che il vero problema è che quell'Italia aveva dato un'immagine non tecnica, non sportiva, che comunque lì era evidente, insomma, che la squadra giocava bene. Però aveva dato un'immagine diversa, cioè aveva vinto un gruppo di giocatori insieme a un gruppo di allenatori, dirigenti, che veramente mi aveva coinvolto. Credo che chi ama il calcio, per una delle poche volte aveva visto vincere una squadra che aveva messo, oltre le quali le proprie competenze per i calciatori e allenatori, aveva messo anche l'aspetto umano, quindi sembrava veramente un gruppo di ragazzi che venisse premiato proprio con i risultati, anche in partite dove sinceramente c'era stato equilibrio, perché tranne le prime noi siamo bravissimi a dimenticare tutti, insomma, con l'Austria avevamo già rischiato grosso, insomma, per i rigori, che sono quelli ai quali ci appelliamo oggi, quelli di Giorginio, ci siamo dimenticati che in quelli che ci hanno fatto vincere poi il Mondiale del 2006 e la partita con la Spagna, dove sicuramente non eravamo stato superiori alla Spagna, quindi, sai, utilizziamo spesso le situazioni ad uso e consumo, però questo credo sia un problema che riguardi il nostro calcio, adesso demonizzare tutto a caldo così è anche un esercizio che non mi piace fare, perché a caldo si deve commentare a volte come è capitato a me delle partite dove giochi fra tre giorni, qui credo che l'epilogo, adesso c'è, vabbè, a parte la farza della partita che dovrà essere giocata mamma mia, contro la Turchia, che conferma in che menti siamo affidati, cioè proporre una partita leggera, una follia totale, poi mi spiegheranno per il ranking, nell'eventualità che qualcuno rinunci, come al torneo a calcetto, si rinuncia e arriviamo noi, o spero in un'altra guerra, non so, però al di là di questo credo che bisogna fare necessariamente e capire come si può ripartire, perché questa volta non è facile, non è facile perché dopo la non qualificazione al mondiale, quello dove Ventura è stato, se potevano l'avrebbero lapidato in piazza, insomma, e dopo quello ci eravamo illusi che molto probabilmente era giusto ripartire, cioè di positivo c'era che saremmo dovuti per forza ripartire da talenti giovani, le convocazioni di Mancini furono indirizzate quasi completamente verso quello, oggi e tutti poi ci siamo detti, avete visto, insomma, non abbiamo ragione, i giocatori c'erano e quindi l'accusa che fu mossa a Ventura è quella di non aver impiegato a quei tempi, fare insigne, oggi la vedo più dura, la vedo più dura perché questi anni l'abbiamo sprecati e l'episodio, purtroppo mi dispiace dover dire così, dell'Europa Euro rimane un episodio da capire, da analizzare perché non vedo un grandissimo futuro perché purtroppo il nostro calcio da diverso tempo e quindi non sa chi ha detto dal 2010, io ci metto dal dopo il 2006, anche se gli europei li abbiamo fatti sempre abbastanza bene, non con grandi problemi, però per una nazione come la nostra, un movimento come il nostro che per due volte consecutive non participa al mondiale, non è che ti deve far pensare, ti deve far capire subito e immediatamente perché. Bisognerà aspettare tanto tempo poi se si riuscirà a qualificarsi per quelli successivi perché adesso con questa storia recente, mentre prima si dava per scontato che l'Italia giustamente come movimento, come qualità dei giocatori quasi assodato, si qualificasse, si qualifichi per gli europei e per i mondiali, sta iniziando a diventare un trend pericoloso anche da questo punto di vista perché sotto l'aspetto psicologico tu riesci a fare molto bene nei gironi, riesci a fare delle partite anche importanti, in qualche caso più che dignitose, però magari anche importanti contro squadre decisamente complicate da affrontare, poi giochi lo scontro diretto con la Svezia, doppio scontro e fai quello che fai, giochi con la Macedonia del Nord e succede quello che succede. Quanto conta l'inesperienza forse a livello internazionale di tanti troppi giocatori? C'era la nazionale del 2006 che era piena di giocatori, anche lì non eravamo favoriti, però tanti giocatori che militavano una squadra importante con una grande carriera internazionale alle spalle. Questa nazionale, mister? No, questa nazionale no, perché credo che Raspadori un pochino l'abbia vista in televisione la Champions come Scamacca, come Berardi, come Immobile che pure è capocannoniere del nostro campionato, la Champions l'ha proprio vista passare anche se ha avuto esperienza all'estero forse il giocatore di questa nazionale insieme a Berratti è quello che ha fatto più esperienza all'estero, però no, non siamo abituati a giocare certe partite, però voglio fare una premessa, con questa penso che la prima, non lo so, ditemi chi è la prima in Serie B? La Cremonese. La Cremonese avrebbe vinto contro questa Macedonia, o sicuramente avrebbe giocato una partita diversa, perché se noi corriamo veramente il rischio di fare un discorso generale, ieri è stata un'impresa, cioè non vincere o perdere addirittura contro questa squadra è stata un'impresa. Quindi che cosa è che non ha funzionato, mister, secondo te? Al di là del fattore fortuna, perché poi giustamente dici, se si rigioca 99 volte probabilmente la vinci sempre, però che cos'è che va storto davanti a 34 mila persone, in Italia, quindi davanti al tuo pubblico, contro una Macedonia del Nord che non ce ne vorranno i tifosi macedoni all'ascolto, ma insomma, che cos'è che non funziona per permetterti di arrivare al 92esimo sullo 0-0 e di rischiare come il calcio poi vuole, che con un tiro, con una palla da fermo, con un'occasione, poi vivi un dramma sportivo davvero? Ma guarda, questa è una squadra che è stata un gruppo, che è stata costruita su delle qualità morali, da mancini e anche psicologiche, quella di giocare leggeri, di giocare sereni. Allora, fin quando tu hai dovuto comunque giocare partite importanti, però c'era l'impatto emotivo iniziale e poi sei arrivato agli europei e quindi hai giocato partite dove nessuno ti dava per favorito o che potevi fare chissà cosa, se non per il fatto che ti chiamassi l'Italia, nessuno poteva pensare a una vittoria degli europei e quindi questa leggerezza, questa maniera di interpretare il calcio, tu l'hai potuta esasperare, mettere proprio e quando tu giochi in quella maniera sei premiato, quindi entra Pessina, fa sempre gol. E ieri, credo non lo so, cioè Berardi poteva in una partita diventare il capocannoniere del girone, cioè... Quante occasioni ha avuto. Ecco, occasioni clamorose, tiri che andavano alti, ma questi nascono perché nel momento in cui tu basi o crei un gruppo su certe qualità, nel momento in cui ti vengono a mancare, allora lì contano altre cose. Conta l'esperienza, il saper giocare sull'episodio, su determinate situazioni e purtroppo ieri non potevamo giocare leggeri perché la posta in palli era troppo grande. Tanti, troppi giocatori non si sono presentati al meglio della loro condizione fisica e questo comunque si incide. Quindi i motivi ce ne sono tanti. Rimane il fatto che nonostante tutti questi problemi non puoi perdere contro la Macerione perché noi siamo andati fuori con Ventura da un girone dove il miglior risultato che potevamo fare era arrivare secondi perché era proprio impensabile arrivare avanti alla Spagna. Quindi eri già psicologicamente pronto a fare lo spareggio. L'hai fatto in due partite con la Svezia ma mi permetto di dire con un gruppo di giocatori notevolmente inferiore a questo e contro un avversario notevolmente superiore a questo perché la Svezia non era il Brasile ma sicuramente non era neanche la Macedonia. Poi ai mondiali fecero anche bene quindi dimostrarono. Adesso sono curioso di vedere Portogallo-Macedonia perché poi nel calcio ci sta tutto. Potrebbe esserci la sorpresa addirittura. Io penso che ieri hanno esultato tantissimo in Macedonia ma credo che lo stesso entusiasmo c'era anche in Portogallo ma non per la vittoria contro la Turchia per incontrare la Macedonia. Per quelli che avevano pizzicato. E poi mister la cartina di tornasole di quello che dicevi prima sull'episodica vittoria e l'episodico successo all'europeo. Io stavo riguardando semplicemente il tridente che è andato ieri in campo e se penso a livello europeo le altre squadre in primis il Portogallo che affronterà la Macedonia purtroppo e non la nostra Italia. Immobile, Berardi e Insigne sono il tridente dell'Italia con prime alternative Belotti, Giovedo, poi apriremo magari un'altra volta una parentesi su questo caso mediatico e sono davvero imparagonabili rispetto a tre, quattro forse addirittura cinque pacchetti offensivi di squadre europee che sono decisamente più attrezzate dell'Italia. No ma se si considera che ieri hanno giocato non il miglior immobile ma il miglior Insigne perché poi se Insigne fosse quello che è stato per alcuni momenti della propria carriera secondo me almeno nella partita di ieri avvinceva da solo insomma anche le stesse immobile. Berardi è stato all'altezza per come è entrato dentro la partita però purtroppo non è stato decisivo nelle conclusioni. Adesso col Sassuolo magari i prossimi tre tiri ne mette tutti e tre in croce dei pali. Ma forse perché gioca al Sassuolo? Questo vabbè lo dici tu però. Allora la nazionale storicamente quando io sento di oh ma questo è il capocannonia no ma questo ha fatto questo fa. Cioè vorrei ricordare che non tutte le maglie sono uguali e mi vengono in mente i grandi successi dell'Italia. Nell'82 fu lasciata a casa Beccalossi, fu lasciata a casa Pruzzo, capocannoniere del campionato a casa non in panchina a casa neanche li portarono via. Adesso non voglio dire che Pruzzo non fosse in grado o Pulici di quei tempi di giocare in nazionale perché poi potevano però c'erano dei giocatori molto molto probabilmente poi l'hanno dimostrato con i fatti non con le chiacchiere più funzionali o più forti chiamateli come volete però insomma giocavano quelli e vinsero non casualmente forse il più bel mondiale almeno della mia vita. quello dell'82 è il più più bello sotto e anche il più difficile nella maniera in cui è stato vinto e quindi sì chiaro se vedi Mbappé vedi questo c'è la Francia che ti propone ma lascia stare la Francia ma metti anche il Belgio o le altre squadre a Germania a Germania siamo siamo al di sotto siamo al di sotto di come valori tecnici come giocatori che ecco cominciano ad avere 30 anni 31 anni 29 quindi è vero che sei al massimo se giochi in un campionato che non è sicuramente competitivo come lo era prima e se fai le coppie allora 29 anni puoi essere in giocatore ma se tu dai 22 ai 29 anni hai fatto 10 partite in Champions quasi sempre uscendo agli ottavi o facendo i gironi voglio dire anche io sono allenatore da Champions ho fatto otto partite due sei di qualificato ma che significa c'è Murigno ce n'ha 120 per dirti certo quindi non è che basta ci vuole un'esperienza per poter dimostrare il proprio valore e poi c'è una cosa storica che devo dire perché anche i successi io mi riferisco al 2006 io non è che bestemmio dico una cosa reale Materazzi è grosso infatti gol dei nostri attaccanti in un mondiale vinto vinto è vero che quella era un gruppo composto dove c'erano i campioni cioè grandi giocatori Totti del Piero Pirlo Nesta vabbè Materazzi oggi giocherebbe con tre sigarette insomma e in quel momento sembrava un giocatore quasi che difficilmente poteva andare in nazionale Zambrotta vabbè tutti quei quei protagoni cattuso cioè tutti no però noi abbiamo avuto il nazionale io non ho visto mai le nazionali vincere i tornei importanti tranne l'Italia senza attaccanti cioè non senza con degli attaccanti arrivano due tre gol a torneo cioè tu guarda Paolo Rossi fece sei gol le ultime partite cioè Lewandowski perché non li fa se no arriva a torneo ne fa sette otto Ronaldo fa i gol Mbappé ha fatto i gol al mondiale tutti i mondiali vinti o gli europei vinti diciamo i grandi tornei si identificano con degli attaccanti ma se gli attaccanti nostri fanno i stessi gol dei difensori o di qualche centrocampista vogliamo pensare anche che purtroppo ci abbiamo avuto degli ottimi attaccanti perché nel 2006 c'era Pippo Enzaghi un po' fine carriera però c'era Luca Toni c'erano Gilardino degli attaccanti però poi io guardo i gol per questi tornei ieri ho fatto una battuta a casa se Vlauvi c'era un giocatore in Italia l'Italia vinceva 4 a 0 una partita come ieri con Vlau un giocatore solo perché è un attaccante non deve stare qui a girare intorno e questi giocatori ti permettono di sopperire a giornate come quelle di ieri dove prima entrava Pessine faceva gol Barella faceva gol vabbè mancava Chiesa però ieri si vedeva i calcionangoli non abbiamo colpito una palla e chi è l'ultimo mister della nazionale italiana con queste caratteristiche perché poi ti sei soffermato sul reparto offensivo te lo dico io purtroppo purtroppo te lo volevo dire l'unico attaccante che per colpa sua solo sua quindi non per gli allenatori o per le moglie è Balotelli Balotelli era un attaccante che a 19 anni anzi a 17 18 anni se se ci stava posso dire si metteva a posto il cervello perché l'ha detto lui sull'intervista lo dice lui e quindi io sono non d'accordo di più era un attaccante che tu in un torneo potevi contare sui 6 7 8 gol suoi ma ripeto io sì nel girone poi i gol sono divisi un po' immuovili insigne ditemeli voi Belotti troppo poco per poter poi troppo poco per essere un attaccante che ti risolve i problemi quando c'è bisogno ieri ma dico ieri dentro l'area dei rigori saranno passati non so quanti palloni non è che casualmente eravamo sempre dietro l'avversario troppo avanti o in alto o in basso è perché manca manca un giocatore ma manca anche quando hai capito di che sto parlando di un mondiale vinto noi siamo eroici a vincere gli europei mondiali con degli attaccanti che si va bene adesso si giocano per la squadra giocano tutti i soliti discorsi Tony fece due gol Gilardino uno Inzaghi uno Totti ne fece uno sui rigori non è attaccante o Del Piero stesso Del Piero ne fece uno con la Germania però Materazzi ne fece due anche così poco influenti in finale quarti di finale cioè più i rigori realizzati poi ci devi mettere anche quelli è vero è vero i rigori sia Grosso fece due gol con la Germania Zambrotta fece gol con la Repubblica cioè con l'Ucraina quindi stiamo parlando comunque sia di una nazionale meravigliosa che però non ci ha avuto allora io dico bisogna ovviamente affrontare il discorso a 360 gradi anche di più però fin quando non ritroveremo un attaccante di cui fidarsi perché ci vuole uno di cui fidarsi uno anche due attaccanti forti e noi bisogna sempre sperare di fare dei miracoli Vieri era quella tipologia di attaccante prima di Balotelli certo beh Vieri adesso l'ho detto che non ce l'abbiamo no no c'è nel senso Balotelli e Vieri forse a livello cronologico Vieri faceva i gol andava ai mondiali faceva i gol poi potevi andare fuori ai quarti o per i gori al mondiale ma li faceva però li faceva adesso mi ero dimenticato di Vieri insomma per dire che è stato sicuramente un attaccante di quel livello di un certo livello ma poi quindi è questo mister così poi poi ci fermeremo per la pausa ma chiudiamo il blocco nazionale poi ci ci dedichiamo anche ai nostri ascoltatori mister che impazziscono quando quando sei collegato con noi quindi approfittiamo anche della tua presenza e della della sosta ma è quello il reparto completamente da provare a a rifondare no ma è rifondare devi trovare i giocatori nel senso che quello su cui si deve lavorare maggiormente perché no 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 bisogna lavorare su tutto il movimento calcio che è una parola che oggi va molto di moda oggi è la sconfitta del movimento movimento calcio oggi eh sì inteso come tutti gli artefici no perché otto mesi fa erano tutti su quel carrozzone insomma hanno fatto le sfilate e che neanche si potevano fare io dico vabbè insomma ma anche in maniera giustificata visto l'impresa che era stata fatta e oggi da quel da quel pullman eh metaforico sono scesi tutti scenderanno tutti penso che Mancini se si gira oggi indietro non vede più nessuno di tutti quelli che che l'hanno osannato ma lui lo sava penso di che parliamo insomma è un uomo che il calcio l'ha vissuto eh per tutto quindi non parlo di reparto bisogna trovarli però allora il Milan non c'è un attaccante italiano è primo il Napoli c'è insegna che non è un attaccante vero diciamo così e comunque ecco c'è Osimen allora io vorrei Osimen la nostra nazionale l'Osimen di turno e non lui certo eh vorrei eh anche Ciro che è attempato di turno ehm poi andiamo alla Roma Abram potrebbe sicuramente essere un giocatore tu dici se si potesse naturalizzare Abram piuttosto che Gio o Pedro tanto per forse sarebbe un tantinello meglio no ma non è tanto no ma io dico come caratteristiche sì certo certo e poi Abram cioè non è che in Inghilterra è il titolare inamovibile e gioca però io parlo proprio di giocatori allora tu puoi dire posso mi posso fidare quella è la parola oggi purtroppo in quel ruolo bisogna adesso andare in chiesa fare il nome del padre e sperare che Scamacca che Raspadori che comunque non sarà mai un bomber Raspadori per caratteristiche certo certo e poi ditemi voi eh ditemi voi un giocatore che oggi può dire che ne so fra due anni può essere centravanti della nazionale ma se non giocano non giocano nelle prime squadre del nostro campionato gli italiani come fai eh quindi quello diventa un problema adesso non lo so che tipo di provvedimenti si possono prendere per le primavere però chiaro non è che puoi dire gli attaccanti eh li acquistiamo solo italiani o li facciamo giocare no certo perché so che viviamo in un mondo globale dove però ho un'attenzione diversa perché se no se no non ne vieni mai fuori perché le altre scuole sono troppo più avanti quella francese quella belga quella tedesca sono troppo più avanti di te e ce ne eravamo accorti talmente tanto mister qui in Italia come movimento calcistico tanto che nei primi nel primo mese forse di campionato di serie B Lucca del Pisa fa quei sei gol dopodiché appena il suo nome è accostato a squadre di serie A e si parla di lui come addirittura coinvolto in uno stage della nazionale smesso non solo di segnare ma di giocare perché parte dalla panchina ultimamente non gioca più non segna più ma per arrivare ad appigliarsi alle eventualmente a un ragazzo del 2000 Lucca che gioca in serie B cioè tu pensa come come viene visto no la prospettiva del calcio italiano per gli attaccanti che è proprio una roba adesso non voglio entrare in discorsi eh troppo approfonditi ma fatto un fatto numerico numericamente non ci sono sono questi sono questi non è che tu puoi sperare cioè se Belotti dieci anni fa potevi dire o Immobile dieci anni fa potevi dire ok abbiamo questi attaccanti poi li valuteremo cioè tu oggi non puoi dire insomma quindi non è che io sento adesso discorsi strani rimanendo cioè le prossime partite dovrei rigiocare quasi con questi in attacco cioè non vedo certo non vedo ripeto eh qualcuno certo tutti quelli che non giocano posso dire se giocano questi posso giocare anch'io cioè lo so che il calciatore ragiona così però non non è esattamente quindi bisogna secondo me fare in maniera tale che più calciatori italiani riescano a giocare più partite in serie A perché non è una polemica Nicolato che l'allenatore in under 21 ha difficoltà in under 21 a mettere dentro i giocatori che che giocano quindi è costretto a prenderli anche della B certo è così mister allora noi ci fermiamo che ce ne andiamo in in pausa poi c'è il c'è il GR con Nino Santarelli rientriamo ancora con il mister che ce lo teniamo ancora per per un per un pochino e approfittiamo e approfittate voi su Twitch collegati siete tantissimi come sempre già state facendo delle domande al mister chiediamo a Lorenzo Pess in redazione di selezionare qualche domanda per il mister così quando rientriamo negli ultimi minuti in cui lo abbiamo con noi gliele sottoponiamo si parla sempre di calcio ed è sempre un piacere con qualcuno di campo che può portare la sua esperienza e può dare il suo contributo ragazzi ci fermiamo a tra pochissimo torniamo torniamo in diretta ancora ancora con mister Cersei Cosmi ci sono domande per te ne abbiamo selezionate alcune ovviamente che riguardano anche in modo parziale quello che è successo ieri non possiamo non possiamo fare altrimenti tanti ti chiedono l'allenatore eventuale sostituito di di Mancini di nomi ce ne sono in giro non ce ne sono c'è qualcuno che dal tuo punto di vista dal mio punto di vista l'unico ovviamente per come vedo il calcio io attendibile attendibile vedo solo Ancelotti poi il resto per carità va tutto bene perché ma in questo momento ci vuole qualcuno che si carichi sulle spalle tanta pressione in virtù di una carriera importante in virtù di un qualcosa già fatto già sentito e quindi credo che a oggi per quello che mi riguarda penso che sia non l'unico però il profilo più importante poi nel caso lui non fosse contattato lui non venisse non accettasse questo ruolo allora le ipotesi sono tutte giuste e tutte sbagliate non so quel che dire perché si va a pescare un pochino così tra le altre cose ci chiedono anche spesso e volentieri abbiamo parlato del gap fisico che c'è tra le squadre italiane e quelle europee la fatica che si fa magari anche a livello di ritmo e purtroppo la cartina di tornasole sono i piazzamenti che facciamo ormai sistematicamente nelle varie coppe salvo rare eccezioni tu credi che questo si rifletta anche a livello internazionale e aggiungo io mister poi una partita di ieri ripeto se la giochiamo 99 volte forse finisce diversamente ma si paga anche a livello calcistico internazionale tra le nazionali questo gap fisico secondo te ma certo si paga e noi giochiamo a dei ritmi diversi facendo sempre la solita premessa ieri abbiamo giocato contro una squadra che forse andava più piano di noi siamo riusciti a perdere lo stesso quindi un presa dopo non ecco a doppio impresa quindi non è non è non è solo quello è chiaro che il nostro campionato è a livello tecnico anche secondo me è molto calato anche a livello tecnico non solo a livello fisico quindi sono due cose che messi insieme possono determinano sono d'accordo sentivo oggi l'opinione di sacchi col quale non sempre sono d'accordo su alcune cose però ha ragione insomma se vedi le altre partite c'è una maniera diversa di andare a cercare palla di andare a attaccare la porta di vivere i momenti delle partite noi noi lo facciamo una volta ogni tanto e se viene fuori una partita di quel genere tutto il giorno dopo diventa una grande partita sembrava una partita di premier quello è il massimo della nostra esaltazione quindi lì ci rendiamo conto del del gap che c'è nel momento in cui ci viene da da fare questa considerazione eh centrocampo di ieri dell'italia mi viene da pensare mister eh tre giocatori che militano in squadre importanti perché barella eh gioca nell'intercampione d'italia c'è giorginio del celsi c'è verratti del pari san germain allora visto che parliamo tanto di centrocampo ti ti chiedono eh diversi in che categoria metti leandro paredes di cui si parla anche in ottica roma eh che negli ultimi anni insomma si è rilanciato dopo l'esperienza lo zenith eh col pari san germain per te che giocatore è leandro paredes io devo essere sincero mi piaceva tantissimo anche nella prima esperienza a roma quando ovviamente doveva capire alcune cose del nostro calcio quando in quella roma giocavano anche i giocatori veri insomma e quindi aveva qualche difficoltà in più oggi giocherebbe sempre e poi ha fatto una carriera di livello e lo vedrai benissimo insomma perché adesso ha tutto insomma quindi ha accumulato un'esperienza che molto probabilmente se fosse rimasto nel nostro campionato in questo periodo storico non sarebbe migliorato come in realtà ha dimostrato di di aver fatto. Ma è uno che può cambiare secondo te mister poi i connotati del centrocampo di una squadra? Ma guarda allora il miglior Giorginio il miglior Barella il miglior Verratti comunque è un centrocampo europeo di livello no perché se tu vai e sei con il pari san germain e Messi e Ciavi e i più grandi giocatori o ex giocatori come Ciavi dicono che Verratti è un giocatore meraviglioso ci sarà un motivo poi Verratti non ha mai fatto una partita di Serie A cioè dal Pescara è andato direttamente quindi Giorginio è chiaro se uno fa riferimento al Giorginio post europeo fai più fatica a dare un giudizio però comunque gioca nel Chelsea, Chelsea è campione della Premier, ha vinto la Coppa intercontinentale quindi non è cante tanto per essere chiaro vorrei più lui insomma però lo stesso discorso vale per Barella, Barella secondo me è solo una questione cioè spremuto lo vedi insomma fa le cose poi sono quella tipologia di giocatore che si esalta in una certa situazione fisica quando le cose non ce l'hai dentro vuoi giocare comunque nella stessa maniera e quindi magari qualche errore viene rimarcato in più però non credo il problema non è sicuramente centrocampo di ieri o i centrocampisti oggi della nazionale. Mi viene in mente un'altra cosa che ti chiedo la struttura particolare del prossimo mondiale con questa sosta lunghissima che viene fatta a livello di preparazione di un campionato come pensi che si possa immaginare di costruire una stagione sapendo che dal 13 di novembre ci si ferma e poi ricomincia la Serie A il 4 gennaio del 2023 peraltro con tantissimi giocatori italiani che ovviamente l'Italia non si è qualificata quindi staranno fermi e staranno a casa sì una seconda estate diciamo che era tutto in funzione del fatto che noi fossimo lì e quindi di conseguenza sarebbe stato adesso con il fatto come dicevi tu che tanti dovranno allenarsi solo è dura è dura perché poi inedita è la prima volta che succede quindi con tutte le cose inedite ecco questo era un mondiale che avremmo potuto vinte perché era talmente strano che ci saremmo ritrovati subito una squadra strana come noi avrebbe vinto il mondiale insomma ma non è facile non sarà facile perché ripeto non ci sono situazioni precedenti che possano farti capire la cosa migliore no ma io credo che il nostro campionato debba al di là della sosta o del fatto inedito della lunghezza della sosta debba darsi una regolata deve trovare qualcosa e quindi io io faccio un altro mestiere insomma però io chi sta lì ha il dovere di cambiare le cose perché così siamo destinati a diventare troppo poco rispetto a quello che è il nostro passato la nostra tradizione il nostro amore verso questo sport noi stiamo disperdendo è quello che mi dispiace molto di questo insuccesso perché mi ero illuso io che bastassero certe cose comunque per vincere un torneo e mi riferivo a quello che quel gruppo aveva rappresentato non da un punto di vista tecnico o tattico cioè ho poche volte visto lavorare gli staff come quelle di mancini in simbiosi la figura di vialli c'era tutto un qualcosa che mi aveva eh riappacificato con un certo calcio uscirne fuori mi fa capire che che quello è stato bello ma bisogna creare i presupposti per poter magari fare la stessa cosa però con delle basi assolutamente diverse noi siamo oggi siamo troppo poco lo dico con con grandissima tristezza però troppo poco adesso entrare nei giudizi di qualche nei confronti di qualche giocatore è è bruttissimo non lo voglio fare anzi io lo facevo quando vincevamo quindi oggi sarebbe un esercizio ripeto troppo vigliacco farlo però chi ha gli occhi vede vede la differenza che c'è insomma tra troppi nostri giocatori poi dopo sul discorso degli oriundi bisogna farci una puntata parte insomma la faremo insomma la facciamo la facciamo in questi giorni cioè parliamo anche di questo di questo fenomeno ti faccio l'ultimissima di un ascoltatore che ci che ci chiede la germania sta giocando ormai da un po' di tempo con il falso nove forse perché fanno anche loro fatica dopo magari dopo penso io ai vari birof ai vari mario gomez che per tanti anni ha fatto là al centravanti trovano fatica ad avere un numero nove a trovarlo proprio anche fisicamente con quelle caratteristiche può essere una soluzione per l'italia affidarsi ad una serie di falsi nove una serie di mezze punte da adattare nel momento in cui il calcio italiano non produce prime punte con le caratteristiche di cui parlavi potrebbe essere una soluzione piuttosto che caponirsi sui belotti di turno non vedo neanche sti falsi 9 in italia però c'era spadori potrebbe essere un pazzagno 9 mezzagnolo 9 per ruolo no però poi ognuno ripete la vede a modo però lì ripeto stiamo parlando di di niente cioè tu devi non ricostruire costruire un qualcosa dove l'allenatore possa avere a disposizione tanti tanti giocatori in grado poi lui di interpretare poi l'allenatore fa quello e quindi sta a lui insomma trovare però oggi dire siccome non ci sono gli attaccanti giochiamo tatticamente in un'altra maniera una romanella perché il falso 9 è anche una grande è molto intrigante ma il falso 9 del del barcellona era messi capito quindi di falso c'aveva poco era molto autentico nel senso sì non era fisicamente quello che era il classico centravanti nel siti era ghero ma quelli che giravano intorno a lui non tutti gol tutti cioè erano tutta gente che andava dentro non dico la sua tecnica ma più o meno la stessa lo stesso linguaggio tecnico quindi per mettere un falso 9 tu devi mettere i giocatori vicini che farne lo stesso linguaggio e questo è concettuale oggi c'è vedo qualcosa che che è momento allora vuol dire che è finita che è veramente la fine allora mister per domani ci teniamo come argomento i falsi 9 il tema degli oriundi su cui apriamo una parentesi magari qualche falso 9 è un 9 che diventa falso può essere è intrigante come cosa quindi domani affrontiamo questo con mister serzi cosmi mister grazie grazie davvero buona giornata piacere è un piacere come sempre buona giornata nessuno